Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Quella che vi stiamo per raccontare è una vicenda incredibile che arriva dal Peru. I dettagli di questa storia sono stati resi noti pochi giorni fa, una storia che come vedremo è molto particolare. Una donna infatti portava i segni di vehementi colpi subiti sul corpo. Tutti si chiedevano che cosa avesse avuto la donna, ma indagando si era scoperto che non aveva subito atti fisici da nessuno, semplicemente quei colpi molto profondi e la se li era fatti da sola. E non tanto per gesti autolesionistici, ma perché era rimasta chiusa all'interno di una bara. Sì, praticamente nove anni prima la donna era stata data per deceduta. Eppure le persone che si recavano presso il Camposanto, avvertivano dei colpi provenire dall'interno della bara. Ma nessuno ci ha fatto caso. Nove anni dopo appunto, quanto si è andati a riesumare la donna, si è notato infatti che sul corpo c'erano dei colpi profondi e che il corpo fosse girato quindi in una posizione diversa da come era stato lasciato. E da cui si è capito che molto probabilmente la signora era stata sepolta ancora viva. Una vicenda davvero molto particolare che ha praticamente fatto scalpore in tutto il Perù. Si è trattato di un fatto di cronaca assolutamente assurdo per il paese anche se purtroppo, non è raro che alcune persone a volte vengano date per decedute quando invece sono ancora vive. Chissà che cosa farà adesso la famiglia, se intraprenderà delle azioni legali o meno. Fatto sta che questa donna è deceduta per un errore di altri che purtroppo le è costato caro.